Un disastro annunciato. La variante Omicron e l'obbligo del Green Pass rafforzato hanno provocato inevitabili conseguenze anche per il settore del turismo già fortemente penalizzato. Se da una parte si salvano le strutture ricettive della montagna, sulla costa gli affari per gli albergatori vanno molto peggio. Tra positivi, isolati e chi viene escluso perché non ha e lascia passare, si susseguono disdette e in principio mancano proprio le prenotazioni. Neanche i weekend del Capodanno e dell'Epifania sono riusciti a risanare una situazione già di per sé problematica. A Pesaro il conte Alessandro Marcucci Pinoli, titolare di sei alberghi di cui tre, aperti per la stagione invernale, mette in luce la realtà dei fatti. Già abbiamo avuto poche prenotazioni e per di più dal lunedì, da ieri, anzi meglio da domenica, abbiamo avuto tantissime disdette, tanto che la notte del lunedì sera l'Alexandria Modena, un paras hotel, era vuoto. La prima volta in vita mia da quando c'era l'Alexandria, ma anche con tutti i miei altri alberghi, di avere l'albergo vuoto. In effetti negli altri miei alberghi, l'hotel Vittoria, c'era qualche camera, se voi qualcuno in più, ma comunque molto poche, ma all'Alexandria proprio eravamo vuoti. La salute è prima di tutto, ma le conseguenze per il turismo sono tragiche, ha proseguito il conte Pinoli, che per anni ha esercitato anche la professione di avvocato e di assistente universitario, la sua passione per la filosofia. Oggi lo porta a riprendere una celebre citazione. Socrate che diceva che le leggi vanno rispettate anche quando si reputa che siano sbagliate, tant'è vero che lui ha bevuto la cicuta sapendo che la legge era quella, ma sapendo anche che era ingiusta e non doveva essere ammazzata, però dopo ci sono le conseguenze. L'estate più o meno speriamo che le cose vadano meglio, gli stagionali aprono a giugno, da qui a giugno ci sono tanti mesi, possono anche sperare e speriamo tutti che le cose vadano meglio. Ma adesso d'inverno è una tragedia perché a peso sono chiusi quasi tutti, ci sono rimasti aperti 6 o 7 di cui 3 i miei e siamo a mezzo ai vuoti. Quando un albergo è vuoto rimette soldi che fa paura perché le spese fisse continuano, gli stipendi, i contributi, le tasse, tutto. Poi per rifarsi ci vogliono mesi. Per carità io non sono di quelli che stanno sempre a criticare qualsiasi cosa facciano, perché poi la cosa più facile è criticare e poi fare un po' diverso. Abbiamo sempre visto che quelli che criticavano tanto poi sono arrivati al governo e hanno fatto tutto il contrario di quello che avevano detto, quindi tra il dire il fare c'è di mezzo al mare. Non critico, mi adego, però sono tempi duri.